Come ho detto lui assolutamente era convinto di o lui o io, ecco queste sono state le sue parole. Fredi Pacini sparò perché riteneva di essere in pericolo di vita. La procura di Arezzo ha infatti richiesto l'archiviazione per legittima difesa putativa. Il gommista di Monte San Savino lo scorso 28 novembre uccise il ladro che si era introdotto nella sua officina dove da anni dormiva esasperato dai furti subiti. Quella notte fu svegliato di soprassalto dal rumore dei vetri di una finestra del capannone che venivano infranti con un piccone. Dal suo palco così impugnò la sua pistola ed esplose cinque colpi tutti dall'alto verso il basso. Due raggiunsero il ladro, un 29enne moldavo, quello fatale lo colpì alla coscia e gli recise l'arteria femorale uccidendolo. Pensava che fosse armata questa persona anche perché ad un certo punto ha visto il riflesso, ha visto anche questo riflesso che l'ha particolarmente terrorizzato. Lui ha usato queste espressioni, si è visto passare i suoi 57 anni in un secondo. Pacini era stato indagato per eccesso colposo di legittima difesa. Adesso in base alle indagini il PM Andrea Claudiani, che nei giorni scorsi aveva ascoltato il gommista, ha firmato la richiesta di archiviazione in base alla vecchia normativa e non alla nuova legge a maglie ben più larghe. È stato riconosciuto da questo punto di vista da parte del pubblico ministero anche un'assenza totale di colpa. Anche questo è un elemento molto importante perché nel momento stesso in cui escludi la colpa, escludi anche tutta una serie di conseguenze successive. Adesso l'ultima parola spetterà il GIP, ma intanto esulta il ministro degli interni Matteo Salvini. Ogni tanto una bella notizia scrive su Twitter, ho appena chiamato Freddy per felicitarmi e ribadirgli che eravamo, siamo e sempre saremo al suo fianco. Non riprenderà mai più un'arma perché ovviamente sente molto il peso della situazione e di quello che è successo.